210 progetti di cui 116 sono negli ambiti del sociale, della sanità e del volontariato. Questo l'impegno dimostrato nel corso del 2019 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, dal cui bilancio emerge un'erogazione totale di oltre 3.700.000 euro. Circa il 41% delle erogazioni sono state destinate proprio al sociale, al volontariato, al sostegno di tutte quelle categorie che sempre di più aumentano numericamente, sempre di più hanno sofferto nel 2019 e purtroppo continuano a soffrire in maniera amplificata anche nel 2020. Resta attivo anche il sostegno alla cultura, per quanto quest'anno, per motivi legati all'emergenza Covid, la manifestazione Dante 2021 non si terrà, sebbene a ridosso del settimo centenario della morte del sommo poeta che ricorrerà l'anno prossimo. Il Covid ci ha messo lo zampino e quindi non era possibile organizzare un po' per rispettare i DPCM sulle distanze e quant'altro. In più perché una serie di partecipanti, mi riferisco al relatorio, ad artisti che erano disponibili a venire, non erano più in grado di poter garantire la loro presenza. Mi riferisco in modo particolare a un grosso personaggio giapponese, un dentista giapponese, che immediatamente all'inizio del Covid aveva comunicato che in Italia non sarebbe venuto. Quindi una serie di difficoltà, dovute anche a difficoltà di tipo logistico, perché i nostri chiostri attualmente sono in una fase di restauro. Grazie. 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 Grazie.